Buonasera, Christmas Joy, la gioia per Natale, per Natale sui fatti di Sport Life Rimini 2012. Iniziamo proprio con la gioia di questo anno meraviglioso, non solo per Sport Life Rimini, ma per i nostri atleti della Nazionale Italiana. Sono tante le medaglie vinte a livello mondiale, ne parleremo durante l'arco della senata, ma adesso la gioia per Natale sui fatti di Natale con questa bellissima introduzione iniziale, Christmas Joy 2012. Sport Life Rimini. Guarda che bravo, lui è il campione del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo. Guarda che bravo, lui è il campione del mondo, non lo vuoi, è il campione del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo. Guarda che bravo, lui è il campione del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo. Guarda che bravo, lui è il campione del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo. Guarda che bravo, lui è il campione del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo, non lo vuoi, sono i campioni del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.